Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo What I Eat In A Day. Ultimamente adoro fare i What I Eat In A Day e vedo che vi piacciono anche tanto, ma mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un mi piace. Intanto questa mattina ho mangiato dei pancake buonissimi e velocissimi, di cui vi lascio la ricetta in descrizione. No, 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 no. di fragole e della crema d'arachidi. Poi sono andata a Napoli all'università, quella mattina avevo lezione di letteratura russa, poi di ritorno ho mangiato delle albicocche secche che io adoro, poi a casa mi sono preparata velocemente una pasta semintegrale di farro, meschiata in una pasta di farro bianca con un macinato di carne, carote, del latte di mandorla e basta. Il pomeriggio poi ho lavorato e la sera abbiamo ordinato da asporto al giapponese, io ho preso dei tacos con del tonno maionese e poi un tonno scottato in crosta di pistacchio, che era veramente buono. E poi non posso farvi mancare il momento canoro che ormai è diventato un must dei What I Pitna Day, che alla fine sono sempre le stesse canzoni che ho fatto in quello precedente, però spero di essere migliorata. Grazie per la visione!